Allora, ci vengono da mia piccata in direzione, ho avuto l'idea di sapietà, sono andato a quale parte l'amo, facciamo un giro le virgolette. Diciamo che non aspetta che non riesce a capire se stiamo a coserci su gli atti di cosembre o stavano. Il mare giù io sono... Sono andato a quale parte l'amore, facciamo un giro le virgolette. Sì, se mi rimaggia, mi faccio l'appello grigio a colpizia.